Rispecchiando l'andamento del resto d'Italia, anche in Molise scende lievemente la curva dei contagi, ma si registra purtroppo un nuovo decesso, una donna di Carpino, di 97 anni, morta nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, che nelle ultime ore ha registrato un nuovo ingresso di un paziente di Castelpetroso. Attualmente i degenti sono 40, di cui 24 sono assistiti nel reparto ordinario, 13 nel reparto anziano fragile Covid e 3 sono le persone intubate per insufficienza respiratoria nella terapia intensiva. Quanto alle nuove positività, l'ASREM ha accertato 211 nuovi casi, di cui 46 sono emersi da tamponi molecolari e 165 da test antigenici. Isernia, con 31 positivi, è la città che registra il maggior numero di contagi, seguita dai 28 di Termoli, 14 di Campobasso, 12 di Larino e ancora Ururi con 11 casi, Cogli a Volturno con 10. 16 i guariti e pertanto il numero di attualmente positivi in regione sono 9.813. Intanto, da domani, martedì 1 febbraio, scattano le sanzioni per gli ultracinquantenni non in regola per effetto del decreto del 5 gennaio scorso che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la popolazione degli ultracinquantenni. Per chi non risulterà in regola con l'immunizzazione anti-Covid, al 1 febbraio è prevista una sanzione da 100 euro. Dal 15 febbraio, invece, per tutti i lavoratori pubblici e privati e liberi professionisti di almeno 50 anni, scatterà l'obbligo del Green Pass rafforzato. Le multe per chi viene colto sul luogo di lavoro senza la certificazione verde vanno da 600 a 1.500 euro.